Affluenza bassissima e quorum non raggiunto. Questo è il quadro della tornata referendaria che si è chiusa con una vittoria platonica dei sì, ma senza, come abbiamo detto, quorum. I numeri parlano di una chiusura sotto il 17%, con molte considerazioni che si potrebbero fare e che forse è meglio non fare. Un dato peraltro sotto la media regionale. Molto diversa l'affluenza per quanto riguarda la consultazione amministrativa che interessava i comuni di Monte San Savino e Monte Mignaio. Nel primo caso l'affluenza è calata rispetto alla precedente tornata elettorale, fermandosi al 58,23% contro il 62,84% di 5 anni fa. Nel secondo caso invece è salita, si è infatti trattato di una consultazione molto sentita con il 70,53% degli aventi diritto, che ha espresso la propria preferenza. Un quadro elettorale di sicuro non confortante, ma prevedibile, che suggerisce una profonda riflessione su organizzazione e frequenza di voto nel nostro paese.